Salvata giusto in tempo. Una squadra della Polizia Stradale di Belluno, facente parte del distaccamento di Valle di Cadore, ha soccorso una donna attorno ai 50 anni che domenica mattina si trovava sul viadotto della Statale 51 che collega le località di Pieve e Perarolo di Cadore. L'equipaggio, avendo notato la signora camminare pericolosamente sul ciglio della strada, si è prontamente fermato al margine della carreggiata. Gli agenti, una volta scesi dall'auto, le si sono avvicinati per comprendere il suo stato di salute, ma durante il successivo trasferimento di comunicazioni alla sala operativa, la donna è salita sul garrail ed ha afferrato la ringhiera di protezione con l'intento, secondo il report della Questura, di scavalcarla. L'operatore più vicino ha prontamente afferrato il braccio della signora, che è stata successivamente invitata a salire a bordo della volante ed accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Pieve di Cadore.